Sono Sara Gainsfort e sto lavorando sull'impatto del turismo di massa a Roma, in particolare nel centro storico e a Tre Stevere. È un lavoro che ho portato avanti anche grazie al corso di giornalismo della Fondazione Basso. Ho fatto un'inchiesta con dati, quindi anche la mappatura e il lavoro sulla visualizzazione dei dati che ho pubblicato su Repubblica. Sto finendo un lavoro di web documentario su Tre Stevere, che sarà poi presentato al Museo di Roma in Tre Stevere. Sto attualmente anche facendo un tirocinio presso Roma Today.